La classica linea delle forbici Fiskars Garden Pro P90 è che ha la lama in acciaio al carbonio temperato e un'efficace azione di taglio. Queste forbici sono costruite per tutti i tipi di potatura. Dispongono di un'azione di taglio ammortizzata per un maggiore comfort e la configurazione delle lame è tale che esse possono essere sostenute dalla struttura per assicurare che rimangano in linea quando si tagliano i rami più spessi.